Il sindaco trattorista, terza edizione del 2022 Vorna di nuovo la fascia di sindaco trattorista da Davide Riepina Per due anni di riepidi da Antonio Marra, adesso il suo successore D'Agnisto Cervo, la pittola fascia Faccio bene a dirci questa, questa, diciamo, città Allora, Fabio Donofrio, presidente, qui viene la Cussele, uno dei miei organizzatori E' anche proprio Marcello Mazzanone, prenderà il palo Posso fare impostare, quindi con un forte applauso, la fascia del sindaco trattorista a sindaco di Alta Villa Cendolo, Franco Cendolo Complimenti, allora Ah, buona fascia Allora, voglio dare un applauso Ok, sindaco Avrà un ulteriore compito Oltre a tutti i membri che è già in la sua città Quello di rappresentarli Il portavoce Oltre che il medico E i tecnicoltori Quindi bisogna anche avere questo Orso